Cresce l'attesa in città per l'esordio casalingo del Bari nella serie cadetta al San Nicola attese oltre 30.000 persone per la sfida contro il Palermo ancora code in mattinata davanti ai botteghini di tifosi a caccia di abbonamenti e biglietti. Indagini serrate sull'omicidio di Maurizio Colonio avvenuto sabato scorso 13 agosto nel parcheggio di un lido a Marina di Lesina e eseguita nelle scorse ore l'autopsia sul corpo dell'uomo. Are dei siti archeologici di Canosa sommerse dai rifiuti ma rimesse a nuovo dai soci della Fondazione archeologica Canosina e l'iniziativa Ripuliamo le strade della cultura. Le notizie da Bari, Bat e Foggia ben ritrovati iniziamo proprio dal capoluogo pugliese perché in città cresce l'attesa per l'esordio casalingo del Bari nella serie cadetta in serie B al San Nicola attese oltre 30.000 persone per la sfida contro il Palermo ancora code in mattinata davanti ai botteghini proprio perché ci sono tantissimi tifosi ancora a caccia di abbonamenti e di biglietti vediamo cosa ci racconta in apertura Domenico Brandonisio. Tifo, curiosità, passione, entusiasmo e tanta voglia di esserci sono veramente tanti i fattori che stanno spingendo al San Nicola circa 30.000 spettatori per assistere alla sfida tra Bari e Palermo lunghe code nei principali punti vendita della città e non solo per assistere a una sfida che si spera possa sorridere alla squadra di Mignani. Dobbiamo vincere quest'anno dobbiamo andare in serie A così diamo uno schiafo morale a tutte le società che ci hanno dato insomma che dobbiamo retrocedere perché le favorite sono Genoa, Cagliari come ben sappiamo però ce la possiamo fare le prospettive ci sono ma speriamo. Sembra una squadra ben organizzata e poi diciamo ha mantenuto l'ossatura dell'anno scorso quindi speriamo speriamo bene. Sicuramente farà un campionato d'avanguardia poi ci auguriamo magari anche con qualche altro ritocco in avanti in particolare di poter ambire anche alla serie A però ci andrei cauto. La prima in casa è sempre bella da vedere poi stasera approfittiamo sperando del tempo a nostro favore per portare le nostre famiglie allo stadio, le nostre bambine per la prima volta con lo stadio rinnovato e quindi mi auguro sia una bella serata e forza Bari. Questa vendita va a gonfie vele. Credo abbia superato le aspettative anche perché alcuni settori sono già esauriti. Cambiamo argomento paura verso le 22.30 di ieri sera a Carpino nel Foggiano a causa di un vasto incendio divampato sulle colline che ha coinvolto circa 20 ettari. Le fiamme stavano per lambire alcune case mettendo a serio rischio gli abitanti. Il pericolo che le intaccassero è stato scongiurato dal veloce intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia che sono riusciti a spegnere prontamente il rogo. Si sospetta la natura dolosa dell'incendio che ha distrutto anche alcuni sentieri realizzati da poco tempo. Il sindaco di Carpino che ha coordinato insieme agli amministratori tutte le operazioni per lo spegnimento dell'incendio definisce criminali coloro i quali hanno appiccato il fuoco distruggendo una buona parte della collina e della sentieristica appena realizzata appunto. Sul posto hanno operato oltre che a numerose squadre dei vigili del fuoco anche carabinieri Arif, protezione civile e mezzi comunali e volontari. Restiamo nel Foggiano perché continuano serrate le indagini sull'omicidio di Maurizio Cologno. è avvenuto sabato scorso 13 agosto a Marina di Lesina nel parcheggio di un lido della zona. Eseguita nelle scorse ore l'autopsia. Ci dice di più Antonella Davola. Nuovi accertamenti e sopralluoghi a Marina di Lesina dove nel parcheggio dello stabilimento balneare Olide in località Pietrenere lo scorso 13 agosto è stato ucciso il 52enne Maurizio Cologno. È stata da poco eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo così come disposto dalla procura di Foggia che indaga sul caso e che fornirà indicazioni più precise sull'arma utilizzata e sulla dinamica dell'agguato. Le risultanze non sono ancora note ma parrebbero confermare quanto già emerso dalle prime ricostruzioni ovvero che l'uomo è stato raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco almeno sei a distanza ravvicinata. Intanto i carabinieri sono tornati nuovamente sul luogo del delitto per eseguire ulteriori accertamenti e sopralluoghi sulle cui rilevanze continua però ad esserci il massimo riservo. Negli scorsi giorni sono stati effettuati esami stub pregiudicati della zona di San Severo e Alto Tavoliere. Nessuna pista al momento risulta predominante. La vittima non sembrerebbe collegata ad alcuna struttura criminale organizzata. Le indagini si stanno dunque orientando sia nell'ambito del regolamento di conti nello faccio di droga che in quello delle questioni personali. Ancora cronaca nelle campagne di Ruvo una vera e propria centrale della droga con 900 chili di marijuana sequestrata. La polizia ha arrestato anche due persone. Sul mercato lo stupefacente avrebbe fruttato oltre un milione di euro. Avrebbero generato oltre un milione di euro di introiti. 900 chili di marijuana trovati in una ex stalla individuati e sequestrati dagli agenti della polizia di stato a Ruvo di Puglia nel Barese. Le due persone colte sul fatto all'interno di questa centrale per il confezionamento sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio aggravata dall'ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono stati bloccati secondo l'accusa mentre erano intenti a pesare, stoccare, confezionare interi cartoni pieni di marijuana. Sequestrati neanche macchinari per porre le buste di droga sotto vuoto, bilance, cassette, generatori elettrici ed altri strumenti. Nella struttura c'era anche un giacilio che consentiva ai trafficanti di dormire sul posto e di svolgere anche attività di guardiania. L'ex stalla si trova in zona Ruvo di Puglia al confine con il territorio di Bitonto, esattamente all'incrocio tra la provinciale 36 e la 151. Gli agenti avrebbero notato un muretto a secco nascosto dalla fitta vegetazione che celava una struttura abbandonata della lunghezza di circa 70 metri. All'interno parte dei 900 kg di marijuana era già stata stoccata e ripartita in busse all'interno di scatoloni, pronta per essere trasportata mentre a terra vi era altra droga che doveva essere ancora lavorata. Torniamo nel Foggiano. Spari e ultime parole di una vittima. Non dico niente a nessuno. Parliamo del duplice omicidio Cirillo a Cerignola in una intercettazione in momenti dell'esecuzione. Emergono nuovi particolari in merito al duplice omicidio di Gerardo Cirillo, 58 anni e del figlio Pasquale Davide di 28, avvenuto lo scorso 30 luglio a Cerignola e per il quale il 3 agosto è stato arrestato Giuseppe Rendina, 45 anni, di Trinitapoli, con l'accusa di aver ucciso con un colpo di pistola alla testa e poi chiuso in due sacchi di plastica e due uomini. Dalle intercettazioni di quest'ultimo gli inquirenti hanno potuto ascoltare i momenti dell'esecuzione. L'uomo, sospettato di un altro omicidio, quello di Giuseppe Ciociola, agricoltore 52 anni di Manfredoni, ha ritrovato morto nella sua campagna di Zapponeta e reintercettato già da tempo. Nell'audio a disposizione degli inquirenti si sente un colpo di pistola e poi un fruscio come se Rendina stesse spostando qualcosa di pesante. Mezz'ora più tardi si sente Gerardo Cirillo dire Giuseppe non dico niente a nessuno, frase seguita da uno sparo. Ancora incerto il movente del duplice omicidio, probabilmente legato a questioni economiche. Durante l'interrogatorio di convalida del fermo, Rendina ha ammesso di conoscere le due vittime e di aver lavorato per loro nella raccolta di carciofi. Sono per uso personale. La dichiarazione però non è servita a convincere i finanzieri del Voitila di Bari che nel 2018 hanno scoperto un 61enne con 400 pillole di Viagra in valigia. Per questo ieri l'uomo è stato condannato. Sentiamo. Aveva in valigia oltre 400 pillole di Viagra. La nota pillola blu di Pfizer che aiuta gli uomini. Il 61enne pensionato barese è accusato di importazione non autorizzata di farmaci. Sono per uso personale avrebbe dichiarato i funzionali doganali e i finanzieri che lo hanno scoperto all'aeroporto di Bari. Ma la dichiarazione non avrebbe convinto il tribunale del capoluogo che nelle scorse ore ha emesso un decreto penale di condanna a 8.500 euro di ammenda. I fatti risalgono al 2018. L'uomo era appena sbarcato all'aeroporto di Bari proveniente da Santo Domingo quando i finanzieri nel corso di un controllo gli avrebbero chiesto di aprire la valigia. All'interno l'ha scoperta. Quasi 400 pillole di Viagra illegalmente importate perché non autorizzate. Dalla sua il 61enne avrebbe subito mostrato insieme alle scatole della pillola blu una prescrizione medica dichiarando che erano per uso personale. Ma la dichiarazione non avrebbe convinto funzionari doganali e finanzieri che hanno subito sequestrato i farmaci. E così dopo 5 anni la procura all'esito degli accertamenti ha chiesto al GIP la condanna all'ammenda per la presunta contravenzione commessa. L'indagato, assistito dall'avvocato Emiliano D'Alessandro, ha impugnato il provvedimento di condanna. È stato chiesto il processo per gli ex gestori di Torrequetta alla seconda spiaggia del capologo pugliese. L'accusa degli inquirenti è di turbativa d'asta per l'aggiudicazione dell'ido del capoluogo. Con l'accusa di aver turbato la gara per aggiudicarsi la gestione dell'ido quattro anni fa il caso della passata gestione di Torrequetta arriva in procura dopo il contenzioso amministrativo. Il PM Domenico Minardi ha chiesto il processo per Rosa di Modugno, numero uno dell'azienda Il Vegliero, che ha gestito la spiaggia sino al 2020, e per Orlando Malanga, gestore di fatto dell'attività imprenditoriale. E il comune di Bari in questo caso ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento definendo il tutto un grave danno per la città che avrebbe creato anche allarme e sdegno sociale. Gli ex gestori quindi al momento risulterebbero indagati. Intanto la spiaggia sul lungomare sud di Bari vive una nuova gestione con nuovi chioschi assegnati e nuove attività per essere attrattiva non solo nel periodo estivo. Intanto solo qualche settimana fa, nella seconda metà di luglio, la Corte d'Appello di Bari ha confermato il provvedimento di ammissione al controllo giudiziario che aveva consentito alla società la revoca della interdittiva antimafia, rigettando il ricorso della Procura. La società Il Vegliero, ex gestore del bar di pane pomodore della spiaggia barese di Torrequetta, scrivono da Piazza De Nicola in seguito all'applicazione del controllo operato in un contesto di piena legalità. L'interdittiva antimafia era stata disposta dalla Prefettura nel maggio 2020 e poi sospesa dal Tribunale di Bari nel gennaio del 2021, quando i giudici avevano ammesso la società al controllo giudiziario. La Corte di Appello, nel luglio del 2021, aveva poi ripristinato l'interdittiva accogliendo l'appello della DDA. L'ultima decisione deriva dall'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione dicembre scorso. Cambiamo argomento perché prosegue sulle spiagge del capologo pugliese il progetto Sale. È un sostegno per bagnanti ed anche anziani e diversamente abili. Offrire spensieratezza ai bagnanti e assistenza concreta a disabili anziani, consentendo loro di trascondere la giornata al mare, anche quest'anno in occasione della festività di Ferragosto e non solo sulle tre spiagge cittadine di Pane e Pomodoro, Torrequetta e San Girolamo, è garantita la presenza di operatori sociali e giovani volontari dell'associazione Gens Nova. Il servizio, realizzato nell'ambito del progetto Spiagge Aperte Libere ed Equi ed in collaborazione con l'assessorato al welfare del Comune di Bari, è attivo dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18 nei presidi alle siti con dei gazebo, dove è possibile ricevere informazioni, richiedere un ombrellone in prestito in caso di necessità e usufruire di un corner di libri per il booksharing predisposto dalla rete Bari Social Book, progetto che prevede anche la reperibilità di un medico ossa chiamata per le situazioni più complesse dal punto di vista sanitario. L'obiettivo principale è fornire un minimo di spensieratezza da un lato ai bagnanti e dall'altro assistenza concreta ai disabili per poterli accompagnare in acqua e consentire anche loro di fare un bagno come tutti quanti. Non a caso come associazione abbiamo acquistato due sedie job che il cui scopo è proprio quello di consentire a chi ovviamente ha delle difficoltà motorie e non solo di poter accedere in acqua e fare un bagno come tutti. Quasi tutti i giorni siamo negli ospedali, siamo nelle corsie e ci rendiamo conto quanto serve aiutare gli altri, c'è gente che ha veramente bisogno d'aiuto e noi siamo qui per questo. Diamo assistenza alle persone che hanno bisogno e infatti ringrazio Gensonova per questa opportunità. 3.402 pazienti assistiti nelle ultime 24 ore, nuovo picco di accessi nei pronto soccorso della regione, il 25% sono codici rossi o arancioni, la pressione quindi non accenna a diminuire. 3.402 secondo le rilevazioni di Agenas, il 25% dei quali codici rossi o arancioni, nuovo record di pazienti assistiti nelle scorse ore nei pronto soccorso della Puglia, e a quanto pare la pressione non accenna a diminuire in quanto è stato superato anche il picco del 9 agosto scorso quando furono 3.300 le persone assistite. Tra il 14 e il 16 agosto c'è stata una leggera flessione subito riguadagnata, invece nella settimana post-feragostana con una nuova impennata. L'alto afflusso sta mettendo in difficoltà le strutture sanitarie, già in crisi per la carenza di personale, per la mancanza di sangue. Nelle scorse ore infatti sono arrivati da più associazioni gli appelli di invito alla donazione. La carenza infatti potrebbe compromettere numerosi interventi chirurgici già programmati. Già tra fine luglio e l'inizio di agosto la pressione sulle strutture di primo intervento è stata molto elevata. La media infatti si è mantenuta tra i 2.500 e i 3.100 ingressi al giorno in tutta la regione. Dopo quello del 9 agosto il record di accessi risale al 26 luglio, contro i 1.163 pazienti visitati, sempre secondo le rilevazioni dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e sempre in virtù delle carenze di personale. Secondo le associazioni di categoria infatti negli ospedali della Puglia mancherebbero circa 2.000 medici, 210 medici per il 118 e 1.500 2.000 unità negli ospedali. In Puglia restano però le difficoltà a reperire nuovo personale da assegnare alle Asle con i giovani medici attratti dalle offerte di lavoro provenienti da strutture private o da altre regioni. Solo il 25% dei dottori ospedalieri pugliesi potendo scegliere continuerebbe infatti a lavorare in un ospedale pubblico. Xilella, l'avanzata nel Varese conta altre 11 piante infette secondo le associazioni di categoria e non si tratta soltanto di ulivi. L'avanzata dell'Xilella nel Varese conta altre 11 piante infette nel territorio dell'area metropolitana. Sarebbero 6 secondo le associazioni del comparto agricolo le piante colpite nei due focolai di Poliniano di cui uno in zona indenne e 5 in zona Cuscinetto cui si aggiungerebbe un olivo a Monopoli nella stessa area Cuscinetto mentre le rimanenti 4 rientrano nella cosiddetta area di contenimento nello specifico 3 nelle campagne di Fasano e una in agro di Martina Franca ma ricadente nel territorio di Alberobello. Non tutti ulivi, visto che l'elenco delle vittime del batterio killer si arricchisce di una poligala mirtifolia e di un mandorlo. Il bilancio resta quello di un panorama spettrale con oltre 8.000 km2 di territorio travolto dalla fitopatologia vuol dire il 40% del territorio regionale sotto scacco fino ai dati aggiornati. Il piano di contrasto, in compenso, prevede nuovi metodi di sorveglianza come la Task Force Cinofila e 15 controlli durante l'anno equamente suddivisi tra i vivai di piante ornamentali e officinali non specificate e specificate e lotti di piante importate da paesi terzi al loro arrivo nel porto del capoluogo. Fondo di coesione e PNRR per finanziare due nuove infrastrutture delle ferrovie Apolo-Lucanei nel barese è il secondo interamento dei binari di Modugno e il raddoppio dell'agrumotorito. Il secondo interamento a Modugno da completare entro giugno 2026 è il raddoppio da 4 km dell'agrumotorito finanziato tramite il Fondo di coesione e sviluppo. Le ferrovie Apolo-Lucane mettono mani al portafogli e prevedono la realizzazione di nuove infrastrutture nel barese. A FAL sono stati assegnati 25 milioni di euro del piano di ripresa e resilienza con cui saranno realizzati tre interventi. Il più importante è quello di Modugno finanziato con 23,5 milioni di euro. Gli altri due sono il rinnovo del binario da Bari Centrale a Bariscalo e la ristrutturazione della stazione di Altamura. Il progetto infatti prevede la realizzazione di una metropolitana di superficie tra Bari e Modugno con fermate intermedie a Villaggio dei Lavoratori, Bari Policlinico, Bari Scalo, Bari Libertà e Bari Centrale. Alle fermate già esistenti sulla tratta si aggiungeranno quindi due nuove fermate Villaggio dei Lavoratori e Bari Libertà da tempo auspicate richieste dagli utenti. Questo intervento favorirà l'implementazione dell'offerta con corse dei treni cadenzate ogni 15 minuti. Non meno importante dal punto di vista infrastrutturale il raddoppio di 4 chilometri di binario tra Grumo e Toritto. Anche per questo intervento finanziato tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 è stata già pubblicata la gara. Si prevedono tempi di realizzazione di circa due anni con benefici enormi sull'aumento della sicurezza e della capacità ferroviaria. Le esigenze del post-lockdown e il ritorno in archivio della didattica a distanza. Affitti con il segno più davanti in tutte le grandi città italiane. A Bari per una singola tocca spendere 275 euro ma resta Milano la città più cara. Antonio Bucci. Il primato resta a Milano ma con il ritorno in archivio dalla didattica a distanza e gli studenti di nuovo tra i banchi universitari tornano a crescere anche i prezzi delle stanze in affitto. Vale per tutte le grandi città a Bari compresa e non soltanto per i più giovani si intende. La domanda è con il segno più davanti più 45% per le singole più 41% per le doppie rispetto al 2021 mentre lo stock di locazioni disponibili sul mercato si riduce lontano dai volumi degli scorsi anni e con gli effetti del post-lockdown in fatto di esigenze. E allora i prezzi salgono. Quelli delle stanze singole rispetto ad un anno fa vedono il segno più davanti per 11 punti percentuali mentre un posto letto in una doppia costa il 9% in meno per una media di 234 euro circa almeno secondo il report di immobiliare.it riportato dal sole 24 ore. E così se nel capoluogo Meneghino tocca spendere fino a 600 euro per una singola che equivale al 20% in più e all'otto rispetto al periodo pre-covid all'ombra di San Nicola bisogna mettere in conto poco meno di 300 euro 275 per la precisione con un rincaro di quasi 4 punti percentuali e mezzo in buona compagnia nella capitale per una singola si pagano in media 465 euro e 248 per una doppia seguono Padova e Firenze dove per affittare una singola ne servono più di 450 sopra i 400 resta Bologna mentre tra i centri che offrono una camera tutta per sé sotto soglia ci sono Torino e Venezia entrambe intorno ai 360 e Napoli sotto quota 340 euro. E continuano nel capologo pugliese i controlli con telelaser sulle strade di Bari nelle ultime 24 ore sono state 58 le sanzioni elevate per violazione dei limiti massimi di velocità quattro pattuglie della polizia locale di Bari hanno monitorato Corso Trieste via Falcone, Borsellino via Tresorio, Liuzzi il quartiere San Paolo via Le De Laurentiis e via Giulio Petroni due le patenti ritirate per superamento del limite massimo di oltre 40 km orari Nella Bata adesso cambiamo decisamente argomento area dei siti storici di Canosa sommerse dai rifiuti ma rimesse a nuovo dai soci della Fondazione Archeologica Canosina e l'iniziativa Ripuliamo le strade della cultura Antonio Gargano La tutela dei siti archeologici passa dall'amor proprio dei cittadini un messaggio forte e chiaro lanciato a Canosa per proteggere i luoghi storici della comunità Fondazione Archeologica Canosina all'opera con Ripuliamo le strade della cultura l'iniziativa volta a rendere più vivibili le zone storiche della città e debellare l'abbandono selvaggio di rifiuti Questa è un'iniziativa che abbiamo intrapreso con la Fondazione Archeologica per sensibilizzare ancora di più se ce ne fosse bisogno la cittadinanza dell'importanza di non buttare l'immondizia per strada è assurdo che i nostri siti archeologici siano circondati da spazzatura come ben sapete noi stiamo col vice sindaco stiamo girando il paese con i vice urbani per aprire andiamo ad aprire proprio le buste per capire le motivazioni che portano la cittadinanza a buttare la spazzatura nelle vie del paese quando dovrebbero lasciare dovranno solo lasciarla sotto casa quindi non si capisce il motivo fondamentale l'apporto dei cittadini iscritti alla Fondazione Archeologica Canosina che non soltanto si spendono per la causa ambientale ma puntano anche a sensibilizzare il resto della cittadinanza Canosa è chiamata a proteggere le sue bellezze puliamo le strade della cultura abbiamo qui un monumento stupendo l'area archeologica di San Leucio e oggi cittadini il primo cittadino il sindaco e cittadini normali iscritti alla Fondazione Archeologica Canosina stanno provvedendo alla pulizia di questa strada per rendere fruibile questo posto che è un posto bellissimo e che non può essere ammorbato da tante immondizie da tanti rifiuti e quindi stiamo provvedendo noi non pensando a quello che lo Stato il Comune può fare per noi ma a quello che noi cittadini possiamo fare per lo Stato Ricordi, memoria e commozione al Purgatorio di Bari al Teatro Purgatorio di Bari Ricordi si ricorda Mariolina De Fano e Vito De Liso padrone di casa Nicola Pignataro Cime di Puglia fino al Paradiso storia di un evento tenutosi al Teatro Purgatorio in memoria di Mariolina De Fano e Vito De Liso personaggi di eccellenza badese raccontati anche attraverso libri e poesie la prima è una nota attrice teatrale scomparsa due anni fa il secondo è uno chef prematuramente recentemente scomparso in un tragico incidente stradale l'evento gode del patrocinio del Comune di Bari ed ha visto anche la presentazione della pubblicazione di La Storia di Vito De Liso in un barattolino d'amore curata dal giornalista Giuseppe Saponaro Grande passione per il teatro che avevamo entrambi grandi pensieri grandi aspettative per il futuro e sia io che lei abbiamo raggiunto il massimo che potevamo ed è stato veramente talmente tanto lei ha lasciato un segno lei è diventata un'icona io spero di diventarlo il più tardi possibile ma sicuramente succederà Mariolina per me è stata come diceva Nicola una scuola una scuola di teatro perché la maggior parte degli attori baresi scuoli di teatro non ne hanno fatte e neanche Mariolina Mariolina era anche lei una naif del teatro ma era veramente aveva una drammaturgia interna una drammaturgia sua che quando la gente la vedeva era qualcosa di eccezionale da due anni dalla sua scomparsa ricordiamo che come amministrazione abbiamo approvato una delibera per dedicarle un palco del nostro teatro Piccini affinché si restituisca memoria alle nuove generazioni di una storia così importante è tutto per questa edizione delle notizie da Bari Bat e Foggia dopo la pubblicità invece ulteriori approfondimenti da Taranto Brindisi e Lecce restate con noi rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social di Antenna Sud e le pagine social